Mi chiamo Afef Said Sadiq, ho quattro figli e l'ultimo, Muhammad, è nato sottopeso e anemico. Per questo era sempre molto debole e stava sempre male. Un giorno ha avuto la febbre molto alta, la diarrea e non voleva più mangiare. Io non sapevo più cosa fare, così chiesi a mia suocera che mi consigliò di smettere di allattare al seno. Ma il mio bambino peggiorava. Poi venne a casa mia un'operatrice sanitaria e mi disse di portare subito il bambino al centro di salute lì vicino. Mio marito non voleva che andassi, perché al centro i medici erano tutti uomini, ma lei ha insistito e alla fine mi ha convinta ad andare. Dopo una lunga cura di sei mesi, ora il mio bambino sta meglio. Oggi anche mio marito ha capito e frequenta insieme a me i corsi di educazione alla salute e nutrizione. Mio marito non voleva. Mio marito. Mio marito. Mio marito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.